Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e sono in compagnia con Dark Angelus e siamo nel server di ieri della serie annunciata Oggi siamo solo io e Dark Angelus ma potrebbe arrivare Malento e gli altri da un momento all'altro Magari fanno altri video perché ognuno registra la sua parte e se ci incontriamo a volte è meglio ancora Oggi mi sono incontrato per puro caso con Dark Angelus e abbiamo deciso di andare insieme Allora io vedo 14.000 maiali Di acchiapparne un po' però così quasi mi faccio una spada in legno C'è dei cani da zucchero comunque Oh abbiamo il deserto davanti così abbiamo anche il cactus Sì perché ragazzi vi ripeto non avendo il logistic pipe Lo smistamento chest eccetera bisogna farlo all'antica Con il coso lì Il sorting machine Non abbiamo il teleport pipe per cui dobbiamo fare tutti i prolungamenti di tubi Dovremmo fare una vera e propria fabbrica Se sentite una bambina di sottofondo non è la mia È la mia vicina La crafting la fai tu? Ok Ok una spada subito subito Adesso vado a bussare il muro ve lo giuro Dai ma ce la faccio? Dai! Prendi un piccone io Ok Vabbè prendila tu dopo Maialino vieni qui Sì ragazzi chi ci ha prestato il servire ce l'ha messo in modalità hard Per cui moriremo prima di fame e di notte è impossibile uscire Vi dico solo questo Ho visto una bistecca Oh ma quanti maiali ho? Ma Non potevano essere tutte pecore no? Dai Vuoi la lana? Eh sì Per fare il letto più che altro Vabbè almeno non moriamo di fame Moriremo per gli zombie perché non avremmo una casa Ma di fame no Ragazzi non abbiamo idee di come costruire la casa Se farla ognuno per i cavoli suoi tutti insieme Vedremo come va a finire Vedremo vedremo O se fare una casa Un casone unico e ognuno la sua stanza Anche se sta montagna ci piaceva parecchio per costruirci dentro Adesso andiamo a vedere la montagna Dai crepa Infame Infame Ok io vorrei prendere il cactus Tanto sono qua Ok Mi matto un altro maiale qui Ho 11 bistecche e sto già mangiando di fame Secondo me Malento Farà Costruirà nel deserto Mi sento così Non so perché Probabile Perché a Malento ricordiamo piace tanto il deserto Sì farà una piramide probabilmente Ah di là c'è un'altra giungla Quante giungle abbiamo intorno? Eh due Servirebbero gli alberi di gomma noi Non li dovremo mai Allora andiamo a visitare la caverna Eh la caverna La montagna Sì 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 perché non so Se ci avete fatto caso ragazzi Ma quella montagna è veramente bella da lontano Quella lì aperta sotto Quindi stavo già perdendo Figurati Ma perché io c'ho Io c'ho un simbolo con scritto rifugio Sì anch'io Con la mappa di prima Ah sì ragazzi abbiamo dovuto cambiare mappa Perché quella mappa lì l'abbiamo usata giusto per fare la intro dell'inizio serie E a me è rimasto rifugio Vabbè E rimasto home Cancelliamo rifugio E dai oh il tasto è giusto questo qua Remove Yeah E dai Ok il gioco fa Ok intanto faccio così Ho un altro viewpoint qui Ok è bella questa montagna Bella 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 Veramente molto bella Buia ma bella Sì ma stavo facendo tipo notte Tra un po' erano 450.000 mob Qua ci sono 840 maiali ancora Ma ci sono solo maiali in sto mondo Sì Il mondo dei maiali Oh ma anche è bello di là eh Angelo ricordati di qua c'è lo spawn Ci conviene andare di là a costruire Infatti ho messo il punto Dall'altra parte della montagna Guarda c'è la pianura Dove? Ah vero sì Ma io costruisco in questa caverna comunque Sì però dico facciarla di qua anche Fare l'uscita di qua Che di là magari facciamo gli impianti e stronzate varie Sì sì Oh carbone 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 Io c'ho il piccone Carbone Piccone per il carbone Mio Mio Sento pure Zombici Sì stai facendo fottusamente notte Quindi è meglio andare A scavare un buco qui Eh prendo il carbone Che sennò siamo al buio Prendo le luci Sì è pure qua Viene a vedere qua Aspetta aspetta che raccolgo il carbonico Ti vedo ti vedo Eh io la dicevo Eh no ma Questa montagna qui O questa qui Quali vuoi possibili Per me è uguale Allora massimo cominciamo in una poi costruiamo pure nell'altra Le uniamo In questa qua direi più fila E di più Ah mica c'è proprio la facciata Ah sì Oh quanto carbone che c'è Vabbè faccio un po' di torce Sì ragazzi mi vedrete Sì ragazzi mi vedrete too many items Ma vi ripeto non possiamo usarlo Non siamo noi gli op del server Vi faccio vedere Mi da gli errori E sapete che noi non usiamo trucchi Ok Solo quando usciamo la sera Vabbè la ti trucchi tu perché lavori di sera Strano vedere Medi Arcangelus a scavare in minecraft invece di uccidere qualcuno in butterfield Infatti Ora sì O metti due torce C'è una caverna qui Ah sì C'è una caverna sì Meglio 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 Se troviamo materiali meglio Un carbone vada lì Ah una caverna finta Ah no scende 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 come scende Oh ma io c'ho fame Stai che faccio una fornace va Ce l'hai tu la crafting table Sì ce l'ho io E la metto Ok facciamo due fornaci Vabbè lo suo carbone è qui Vedete un piccone di cobblestone in effetti Allora io c'ho il mouse wireless ragazzi Scusatemi se a volte mi inceppo Ma a volte non prende sto cazzo di mouse Oh chi è che bussa Faccio un po' di attrezzi qua Ah molto meglio E' un diamante Ho trovato il diamante? No Arrivare Ah dicevo sono all'altezza 50-62 I diamanti qua erano un po' strani in effetti Perché è un bravo ragazzo Ragazzi può essere anche che noi magari mentre giochiamo si unisce qualcuno la partita tipo Beck, Malento o altri Senza che neanche lo sappiamo E li incontriamo nel server così li uccidiamo Esagerato No vabbè uccidiamo no, ammazziamo magari Ho fatto un po' di tolto No ma io ho finito i bastoncini che pirlo non c'ho più legno Allora Ok io andrei a farlo a legno Stai che qui dentro io Vai 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 io vado a farlo a legno Mi serve legno? Sì Grazie Allora facciamo due picconi Una spada Allora facciamo le due che è meglio E facciamo una pala Ok abbiamo tutti gli attrezzi Allora 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 Prendiamo il piccone Prendiamo quel carbone lì Oh quanto 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 carbone c'hai te Eh un po' Siamo tipo 17 ancora No ma io ho fatto le torce all'inizio Adesso ne ho 9 Esattamente buio a sto posto Eh adesso Dare le bistecche sono fitte a te Ah infatti le bistecche sono cotte Arrivo arrivo E tu vuoi non le mie Se ti cade giù il carbone raccoglilo Eh E devi fare comunque questa Una Intrata generale E poi dopo fare tutte quante le stanze Sì sì Poi ognuno si fa la sua stanza Sì È meglio Figo Bistecche Ecco i telekini Bene Io direi di farmi una cesta E direi Per chi me l'ha chiesto nel video precedente Uso la La misa HD Come texopack Perché la Texopack base Non mi piace Ma io ho trovato Una caverna che di qua esce Esce? C'è un corridoio lungo E poi c'è l'uscita Dove? Aspetta che ti venga a prendere Segui le torce Guarda qua Ah Si sale Si sale C'è un corridoio lungo E poi c'è l'uscita Ah Figo Guarda dove porta Ah Che figata Ci sono anche due clipper Se li vuoi Li possiamo anche chiudere Comunque Ah ma di qua si sale anche Si sale E c'è un'altra uscita Guarda quanto carbone è qua Un ragno Arriva il ragno Ti difendo mi C'è la con me C'è la con me Non con te Ok Due pezzi di filo Bene Io direi di chiudere Come il primo episodio Sennò poi Vengono troppo lunghi Si si infatti Tanto comunque Tutta la questione di raccolta Qui ragazzi È una battuta noiosa Come cosa Infatti ragazzi Scusate se l'inizio Sono un po' moscio Ma sapete che l'inizio Di minecraft è sempre così Sempre così Speriamo di arrivare più presto A fare macchinari Impianti Costruzioni Ammazzarci No ammazzarci no Forse Mi sono un attimo perso E là la casa A chi io Di qua Luci Dove sei? Sono in casa Si viene di qua Vedi le torce Io le vedo torce Sì Bene Da Luke Da Arcadius È tutto Ciao a tutti Ciao ragazzi